Sarà di scena il Prometeo incatenato, l'opera di Eschi, lo approda anche a Gela. Noi siamo il gruppo archeologico Geloi, la sezione teatro. Non vediamo l'ora di mettere in scena questa tragedia che appartiene al nostro territorio, alle nostre radici storiche del nostro drammaturgo gelese Eschilo. E nostra intenzione è appunto recuperare la tradizione della tragedia, molto in voga decenni fa, poi spiacentemente abbandonata, e quindi è voglia, desiderio nostro di gruppo e di tutta la comunità riappropriarci di quella nostra identità che manifestiamo anche in questo modo attraverso il teatro, l'arte. Ci vengono in mente delle grandi elaborazioni e messe in scena di questo spettacolo grandioso, il Prometeo incatenato che ha veramente scaldato le platee di tutto il mondo e anche a Siracusa con le tragedie che sono seguite da milioni di spettatori che provengono da tutto il mondo. Misurarvi con questo grandissimo progetto in esordio di questa nuova esperienza, che emozioni vi ha dato? Certo, è un campo, un settore nuovo per noi perché finora ci siamo dedicati al campo del musical, quindi della prosa, e quindi è una scommessa penso vinta perché ci siamo affidati anche all'esperienza del regista Biaciopardo che ha molta esperienza appunto nel settore e ci ha dedicato tutta la passione e la sua professionalità per istruirci al meglio. Bene, a proposito di regia, quali sono state le soluzioni di regia che avete applicato, quanti attori saranno in scena e soprattutto come avete adattato i testi diciamo al pubblico gelese? Intanto tengo a precisare che questo nostro lavoro così audace vuole essere un puncolo per la nostra città e per l'amministrazione perché abbiamo sempre pensato che Gela nel comprensiorio sia l'unica città che sarebbe la più deputata a non avere ancora una stagione di teatro classico. Il prologo sarà interpretato da un attore che parlerà il lingua siciliana proprio per dare questa linea di continuità tra passato e presente. Poi ci siamo attenuti a un testo integrale con lo greco, da me tradotto. Siamo una compagnia, è vero, una sezione di teatro di elementi amatoriali, però abbiamo avuto la passione e l'entusiasmo come tutti quanti gli attori delle compagnie amatoriali e quindi ci sentiamo pronti per questo debutto.